53 anni fa fu istituita la regione con le elezioni del 7 e 8 giugno 1970. Una partecipazione di popolo altissima che portò alla nascita dei primi consigli delle regioni a statuto ordinario del paese e all'applicazione completa del disegno costituzionale. Una data da ricordare e infatti il primo presidente della regione toscana, Lelio Lagorio, istituì l'anniversario nel 1972. L'anno scorso è stato il presidente Eugenio Gianni a riproporlo e oggi la Toscana celebra di nuovo questa importante ricorrenza. Teatro dell'iniziativa è stato Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale. Qui nell'Androne è stata scoperta una targa per commemorare il primo passo della Repubblica fondata sulle autonomie locali. Un evento di celebrazione ma anche di riflessione. Un video realizzato da Fondazione Sistema Toscana ha ricordato il valore del patrimonio documentale custodito nell'archivio regionale e ha aperto il convegno dedicato alla elezione dei protagonisti di questo grande processo democratico, quella di Piero Calamandrei, giurista e padre costituente e del suo allievo e collaboratore Lelio Lagorio. Noi da quest'anno abbiamo voluto che il 7 di giugno, il primo giorno in cui i cittadini in assoluto votarono per la regione toscana, in realtà votarono per tutte le regioni a statuto ordinario. Era il 1970, diventi d'ora in avanti un po' come la festa della Repubblica per lo Stato. La festa della Repubblica ricorda che si votò per la Costituente, il 7 di giugno si votò per la prima volta per la regione e tutti i 7 di giugno faremo un'iniziativa che lo ricordi. Quest'anno il carteggio fra il primo presidente della regione toscana, Lelio Lagorio, e il padre della Costituzione che ha mise le regioni, ovvero Calamandrei che rappresenta in qualche modo il padre costituente più simbolico per la Toscana. Al tavolo si sono alternati gli interventi di giuristi e professori. Un confronto sulla storia dell'istituzione regionale toscana, anche oggetto di una ricerca che nei prossimi mesi inaugurerà la collana Biblioteca dell'identità toscana voluta dalla Giunta regionale.